Io ho voluto incontrare la mia giunta subito dopo la commemorazione, siamo ritrovati con i presidenti di quartiere. Nei prossimi giorni incontrerò il team di esperti che ci sta aiutando sul tema dei giovani. La violenza in strada tra i giovani è una grande questione che, come ha detto la mia capo di caminetto, Matti De Madrid, deve interrogare soprattutto gli adulti, il ruolo che noi adulti abbiamo nei loro confronti. interroga a me come sindaco, deve interrogarci come genitori, come insegnanti. Oggi la società tende a incolpare i giovani, i ragazzi, invece noi li dobbiamo aiutare per fare in modo che al posto di quel coltello la prossima volta ci sia una parola, qualcosa di diverso dalle armi. Noi siamo consapevoli ormai da diversi anni che la violenza è presente tra i ragazzi in forme davvero sconosciute dagli adulti e quindi sta a noi non solo dare l'esempio ma essere al loro fianco. Quindi nelle prossime settimane, a partire dall'inaugurazione dell'anno scolastico, presenteremo una serie di iniziative.